5 minuti di ordinaria follia, 5 minuti come era già accaduto a Catanzaro e una gara che sembrava incanalata su un binario vincente si trasforma nell'ennesimo capitombolo. Siamo alle solite, ha detto a fine gara Andrea Sottil, solite e poco rassicuranti aggiungiamo noi, perché dopo lo stop di Benevento la situazione in classifica del Gubbio si fa ancora più pesante e tra due settimane, a ritorno in campo in questo torneo balbuziente dove ogni tre partite ci si ferma, i rosso-blu saranno attesi da un altro viaggio ancora più a sud, sia in latitudine che in classifica destinazione Barletta. La sconfitta al Ciro Vigorito lascia molto amare in bocca non tanto per l'avversario, tra i più in forma del momento, tanto che come il Perugia è giunto alla quarta vittoria di fila, quanto per la dinamica con cui è maturato e anche per il killer. Quell'ettore Marchi, cresciuto nel Gubbio e lanciato dal Gubbio nell'orbita della Serie B da Triesta a Sassuolo, ritrovatosi poi avversario senza troppi rimpianti. Salvo piazzare una doppietta che forse il diretto interessato non ha sognato alla notte come desiderio irrinunciabile, ma che si è trovato a siglare nella domenica meno indicata o forse in quella più significativa, se è vero che Marchi indossava quella maglia numero 7 che in passato appartenne a Carmelo Imbriani, il compianto ex attaccante e allenatore dei Sanniti. Doppietta per Marchi con lo zampino di un altro ex Marotta e tutti a casa con le pive nel sacco. E nella valigia dei ricordi, accanto agli ex e ai loro acuti, mettiamoci pure quella che fu una granitica difesa nelle prime dieci giornate di campionato e che oggi si conferma purtroppo un reparto che può cedere da un momento all'altro anche in gare, che in fondo si sono messe bene, come lo era quella di ieri, dopo un primo tempo amministrato sapientemente e portato addirittura con un gol di vantaggio. Il primo stagionale firmato da Matteo di Piazza, altro ex stavolta di Sponda Beneventana. Sembrava che la ruota avesse davvero girato, anche per le polemiche che avevano condito il gol e Gubino, con l'ombra dell'offside a gravare sull'azione di 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 Piazza. Le polemiche sono presto sopite però, quando tra il 53esimo e il 57esimo Marchi ha rimesso tutto secondo pronostico. Ed ora altre due settimane di friggitura a fuoco lento per il rosso-blu. A Barletta non si può sbagliare, non è questione di sfida, ma di nuda e cruda classifica. Saranno infatti le prossime quattro gare, dopo quella puiese ci saranno tre avversari toscane di fila, a svelare i contorni del finale di stagione del Gubbio.